C'è anche una pesarese tra le cinque persone coinvolte nella violenta aggressione che si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato a Rimini e che è stata condotta da Somano Edula, un cittadino somalo di 26 anni. Il tutto è iniziato sul filobus linea numero 11 che da Riccione stava viaggiando in direzione Rimini. Le prime persone ad essere aggredite sono state le due donne addette al controllo dei biglietti salite sul mezzo, a bordo del quale si trovava anche il 26enne, risultato poi essere sprovvisto del titolo di viaggio. Dopo aver iniziato a stilare il verbale di multa però, le due donne sono state accoltellate dall'uomo, una al collo, l'altra alla spalla, con una lama che l'aggressore ha estratto dallo zaino. Tra lo shock e lo sconcerto degli altri passeggeri del bus e dopo aver minacciato anche l'autista, il giovane somalo è riuscito a scendere dal mezzo e a scappare. Ed è proprio durante la fuga che il 26enne ha colpito con lo stesso coltello anche altre persone. Tra queste una giovane ragazza pesarese di 27 anni, che fortunatamente però non ha riportato gravi conseguenze dalla lesione provocata dall'uomo. Dopo aver ferito la 27enne in via Olivetti, l'uomo si è spostato in viale Regina Elena lungo il quale ha colpito un'altra donna di 77 anni e infine anche un bambino di appena 6 anni, il quale ha riportato le lesioni più gravi. Dopo l'intervento a cui è stato sottoposto nella nottata tra sabato e domenica all'ospedale infermi di Rimini, la prognosi del piccolo rimane ancora riservata, anche se non sarebbe più in pericolo di vita. La folle corsa del somalo, che lungo il tragitto ha tentato anche di derubare del cellulare un uomo, che però si è riuscito a chiudere nella propria automobile, si è interrotta poco dopo, qualche centinaia di metri più distante rispetto al punto dell'ultima aggressione. Il 26enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere. Nel primo interrogatorio svoltosi in questura appena dopo il fermo, Dula, che era ospite di una struttura riccione gestita dalla Croce Rossa, avrebbe ammesso di aver assunto cocaina prima dei fatti. Su di lui ora pesano i reati di tentato omicidio, tentata rapina e lesioni. Smentita invece la pista che attribuiva matrice terroristica a quanto accaduto.